E le persone speciali di questa mattina sono proprio loro, io do il benvenuto a Paola e Tommaso Battaglia, buongiorno a voi Buongiorno Barbara Bentornata Paola, perché noi ci siamo già viste in un'altra occasione, però abbiamo sempre parlato di tango perché di quello che parleremo proprio questa mattina insieme a loro perché insomma ci sarà un evento molto bello, ce lo descriveranno tra pochissimo il 5 novembre al Teatro Abeliano, Malevache Tango Esattamente, sì, Malevache Tango è il titolo, il titolo dello spettacolo che ha come sottotitolo storie di uomini, di coraggio e del perduto tango perché è proprio una narrazione attraverso diversi quadri che raccontano appunto il coraggio, il ricordo questa sensazione del perduto tango, di nostalgia, di amore, di sensualità che fa parte proprio del tango stesso e ci aiutano a percorrere questo racconto devo dire con molto orgoglio, lo dico con molto orgoglio 5 tra le più importanti coppie del panorama mondiale nel tango argentino quindi sono 5 tra i più importanti ballerini, coppie di ballerini e maestri Eh sì, perché questa è una prima assoluta Sì, è una prima assoluta l'anno scorso abbiamo sperimentato questa apertura del festival del Baritango Congress con questo laboratorio teatrale ha funzionato molto bene e questa non l'abbiamo riproposta un racconto, come diceva Paola, con musica e recitazione tra le atmosfere tipiche del tango argentino con i migliori rappresentanti di questa danza Quindi non è solo ballo Esatto, è quello che ti volevo chiedere perché il tango non è soltanto ballo Non è solo ballo e non sono solo queste 5 coppie di big mondiali ma a loro si uniscono 4 coppie italiane quindi 4, sono veramente 3 giovani coppie di ballerini 3 giovani talenti 3 giovani coppie di talenti perché la quarta siamo noi che siamo i ballerini anziani Sì, noi siamo una coppia anziani Ah non fate modesti, su ora L'anno scorso erano già con noi questi ragazzi sono Vito Raffanelli, Giorgia Rossello Michi Padovano, Anna Paradiso e quest'anno si aggiungono a loro Simone, Facchini e Gioia a Balle 5 grandi star 3 coppie di talenti nostrani Una coppia anziana Ci sarete anche voi ovviamente Da quanti anni ballate il tango? Dal 99 Noi dal 99 Balliamo dal 99 e poi per passione ecco questa cosa è iniziata così un pochino per divertimento per seguire dei nostri amici che ce l'avevano proposta e dal 99 non ci abbandona Però è anche bello che possiate far conoscere il mondo del tango anche a chi magari non lo conosce a chi è distante perché è bello creare un micromondo e farlo conoscere poi agli altri Certo, non solo un micromondo perché lo spettacolo apre la manifestazione Bari International Tango Congress che è una manifestazione di settore che attirerà qui a Bari un grosso numero di tangheri da tutte le parti d'Italia, del mondo per seguire i loro beniamini e appunto ballare tango quindi la manifestazione si apre proprio con lo spettacolo Magari a qualcuno verrà voglia anche di poter incominciare a ballare il tango anche perché non credo ci sia un'età per iniziare No, no, no la bellezza di questa danza di questa disciplina è che non ha età ecco perché nel titolo dello spettacolo si parla del perduto tango storie di uomini di coraggio del perduto tango un tango che ha radici lontane e che attira diciamo una popolazione che va da ragazzi di 20 anni fino a gente più matura più adulta come noi ancora ma non è vero ora però per completare il progetto perché comunque è un progetto ecco è una sfida che noi ci siamo un pochino fissati da un paio di anni perché già l'anno scorso la manifestazione si aprì con un altro spettacolo e un altro spettacolo che come quest'anno ha visto la regia come quest'anno di Lorena Pasotti che ci sta aiutando in questa esperienza perché oltre a il pubblico ad assistere ai virtuosismi scenici dei ballerini in pista avrà anche la possibilità di ascoltare i due bravissimi attori pugliesi che vi partecipano che sono Silvia Cuccovillo e Domenico Palmieri quindi che aiuteranno le persone in questo racconto in questa narrazione per spiegare un po' la storia del tango in questo viaggio sì allora ricordiamo il racconto sotto la direzione non so se l'abbiamo detto sotto la direzione della bravissima Lorena Pasotti e non finisce qui perché vi partecipano anche due bravissimi ragazzi della compagnia Junior Dance Company che sono Mario Lo Sapio e Ilaria Teofilo e due virtuosissimi musicisti conosciuti in tutto il mondo che sono i Tango Sonos i due fratelli Polito anche loro davvero eccezionali non vi siete fatti mancare nulla quest'anno aggiungo le coreografie contemporanee di Sara Accettura perché sarà anche d'azza contemporanea uno spettacolo bellissimo a cui abbiamo lavorato assiduamente e beh sì credo ci avete messo corpo il caso di dirlo ma anche ma anche anima perché poi il tango è anche quello allora dove poter acquistare i biglietti dove potersi informare allora i biglietti sono disponibili centro musica in corso Vittorio Emanuele 165 a Bari nel pieno centro città o al botteghino del teatro a Belliano quindi negli orari ovviamente del botteghino conviene telefonare c'è anche la pagina facebook dell'evento lo ricordiamo Malevahe Tango Malevahe con la I con la I con la J così non vi sbagliate e potete trovare lì insomma tutte le informazioni della serata io non posso che farvi un grande in bocca al lupo per veramente per questa per questa serata per questo nuovo evento grazie mille per essere stati qui grazie a te Barbara e noi ti aspettiamo giovedì grazie ci sarò a sentire la storia del tango io restituisco la linea alla regia di Telebari ringraziando Federico Semplice ma io e il buon Gio Luigi Maggi ritorneremo su Radio Bari tra pochissimo 88.8 www.radiobari.net dopo questo bellissimo pezzo Last Tango in Paris di Cotton Project Grazie a tutti Grazie a tutti.